Chi sta governando con Renzi e quindi Alfano non è possibile alleato della Lega da nessuna parte. A parte il fatto che l'NCD ormai stando ai sondaggi ha la stessa rappresentatività di scelta civica più o meno, quindi stiamo parlando di una categoria dello spirito. Detto questo non sono disposto a incoerenze pur di vincere, quindi Maroni sta amministrando Regione Lombardia con l'NCD perché ha iniziato a esistere dopo le elezioni. Per quanto mi riguarda una città seria come Milano ha bisogno di gente seria che non faccia una cosa a Roma e una cosa a Milano e quindi dove c'è Alfano non ci sono io, con tutto il rispetto per il poltronaro Alfano ci mancherebbe altro.